C'è una semina combinata che monta un erpice maschio da 1,5 m fino a 2 m e una semina a spaglio. In questo caso è ideale per la semina sia di cereali, fava, favino, sia anche di colture azotofissatrici come erba medica, trifoglio. In questo caso andiamo a portare un miglioramento sia della struttura del terreno, anche sul sodo, sia anche del contenuto di sostanza organica del terreno per lo sviluppo delle viti e o fruttete. Un ringraziamento e buona fiera. Un ringraziamento e buona fiera.